In attesa di capire se ci sarà la terza dose in Abruzzo prosegue la campagna vaccinale così come previsto. Il presidente della regione Marco Marsilio rivendica gli ottimi risultati per la vaccinazione del mondo della scuola ribadendo che si partirà regolarmente con il suono della prima campanella il prossimo 13 settembre. L'Abruzzo è pronto a fare tutte le dose che bisognerà fare quando i medici e le autorità sanitarie decideranno quando farle. Noi abbiamo fatto la prima e la seconda dose e penso che l'Abruzzo abbia dimostrato di essere in grado di farlo e parlando appunto di scuola siamo la regione più avanzata sulla vaccinazione sia degli insegnanti che dei ragazzi quindi quando ci verranno date comunicazioni ci attrezzeremo per fare altrettanto. Creare strumenti surrettizi verso l'obbligo, non fare l'obbligo per magari non pagare gli indennizi e cose del genere non sia. Credo che magari se avessero accolto in Parlamento le richieste fatte da Fratelli d'Italia per chiedere allo Stato di prevedere esplicitamente il risarcimento di danni collaterali gravi quando questi raramente si verificano ma anche se rari accadono avrebbe molto tranquillizzato la popolazione e aiutato fortemente una campagna vaccinale che trova diciamo una sacca di indecisi che forse con uno strumento del genere sarebbero stati molto più sereni nel sottoporsi alla vaccinazione.